Un anno a livello sportivo ricco di soddisfazioni, ricco di risultati impressionanti, straordinari in tutte le discipline sportive, sotto il punto di vista amministrativo, insomma dobbiamo migliorare molto, abbiamo avuto molti blocchi, molte chiusure, abbiamo riaperto altri impianti, insomma c'è sempre un gran lavoro per una città come Napoli, ma il risultato poi viene da questa gente, insomma il mondo dello sport napoletano che è sempre straordinario e insieme a noi cammina in un percorso sempre difficile ma ricco di soddisfazioni. L'augurio è di continuare così, di lottare sempre, di non dimenticarsi mai di rappresentare una città, per alcuni anche addirittura una nazione, ma soprattutto di avere quell'orgoglio di essere napoletani e di portarlo sempre avanti. Con tutte le difficoltà, con tutto il quotidiano che è sempre difficile, ma questi ragazzi, questi sportivi napoletani hanno veramente un cuore grandissimo.